Il campione nazionale di OSS Aspetta, minchia Ci passava un mollino, hai visto quando è passato da fuori? Infatti Ma hai visto quando è passato da fuori? Si, è vero Ma guarda che ancora non c'è più Bestia, vedi un mano da noi Poi lascio da ne... La rinchiera della cosa Eh, spara cagno Siamo alla postazione di tiro Del campionato regionale di rassegno Sul tappo, una distanza di 15 metri Ehi, vedi se possono essere clone 15 metri sono Todorrigio sta effettuando il tiro su quel tappo Vediamo se riusciamo a zoomarlo Aspetta che non riesco a vedere Si muove E quel tappo è quello bianco lì Allora viene, adesso viene Grandissimo Quattro riusciamo a vedere